Allora, ha già detto in tutto la signora, così mi ha levato il compito di illustrare i compiti della filarmonica, siamo in via Perghini all'Urlo, facciamo un concerto come diceva la signora e viviamo in Diopoli, perché non abbiamo nessun soprenzamento da nessuno, mano a mano che andiamo a suonare qualcosa e ci danno qualcosa, che non viene a noi ovviamente, perché noi siamo a gratis, ma vanno alla filarmonica di Santo Corso. Che dire, l'altro, è stata fondata nel 1986, io mi pregio di essere uno dei fondatori che è in origine del 2012, siamo rimasti in due, io spero che non rimanere da soli. Comunque, a questo punto facciamo musica, tanto avevamo in cominciato solo con un swing, con un jazz, però indirettamente alla gente, non so, mi so, e poi si addormentava, forse per andare da lì, così facciamo un po' di jazz, un po' di sudamericana e facciamo anche un pezzo, come si chiama? Grazie, grazie. È un fanchi. Quindi, è arrivato all'estremità. Allora, allora, sono stati variegati, pensi che facciamo, speriamo di divertire tutti, saremmo già contenti alla maggior parte comunque comunque cominciamo il nostro programma con un classico che ha detto nel jazz si intitola Olof sarà un mio chiero Olof perché è la lingua e quindi tutto di nuovo un po' Grazie a tutti. 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 a tutti.